Sono 21 le attività storiche del pescarese che il comune e in particolare l'assessorato alle attività produttive hanno deciso di premiare con le targhe dedicate ai 40 e ai 50 anni di esercizio, realtà commerciali che con il loro lavoro hanno contribuito a consolidare l'economia della città adriatica. Siamo molto orgogliosi e molto grati a queste aziende che hanno creato impresa sul nostro territorio dando posti di lavoro ma soprattutto abbellendo la nostra città. È un doveroso riconoscimento, il comune da tanti anni è vicino alle attività commerciali, pescare una città turistico commerciale e quindi il nostro ringraziamento avviene anche attraverso questa cerimonia dove sarà presente il sindaco, l'assessore al commercio e appunto andremo a premiare quelle aziende che da tanti anni danno un valore aggiunto alla nostra città. Abbiamo delle targhe che vengono date per i 40 anni, per oltre i 50 anni ed è giusto che il comune sia riconoscente a tutti coloro che non solo hanno investito nella propria città, hanno contribuito quindi a far crescere la città di Pescara ma hanno creato posti di lavoro, come dicevo prima, hanno abbellito le nostre città. Voglio ricordare a tutti che è una città senza commercio, è una città spenta, è una città morta. Noi dobbiamo tantissimo ai commercianti, soprattutto in questo momento che c'è un momento di dura crisi dovuta ad alcuni fattori mondiali e quindi il comune vuole anche con questa cerimonia essere ancora più vicino al mondo del commercio e ai commercianti.